Buongiorno Torrina, vieni qua guarda guarda tu sei bella, si sta facendo bionda la mia cazza, non so, si stanno facendo dei belli marro, buu, ciao buongiorno agli amici di youtube, buongiorno a tutti, io voglio sempre le coccole, come dici, come dici, sempre le coccole vuole la torrina, bellissima, oddio questo coccole, bella, bella, bella. Ecco la nixi, dove è la nixi, anche lì le coccole, oh si sono delosa una dell'altra, si è mosca, la mosca dove è andata a passeggio, non c'è mosca, piccolino, dove sono i miei piccolino, il piccolino mi dica tanto buu, ma dici sono delle gatte, bellissime gatte si sono fatte, eh, nixi, ecco la nixi, dì anche tu ciao ciao, ciao ciao la nixi, ciao ciao, ciao, ha bella nixi, mh, che ciorrina, è mosca? Mosca non c'è, ok, mh, le carezza la mancina, vuole lei, dov'è, ma mi aggredisce, no, basta, non vuoi le carezza? sta con caperciamolo a svegliere, ho uscia la姿 min fare a to LO 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 LA Grazie.